Presentati a Palazzo Reale i due quadri restaurati grazie al contributo del Consiglio regionale del Piemonte. Si tratta di due opere nella galleria della Cappella della Sindone. Il Guglielmo Embriaco, condottiero di crociati genovesi alla presa di Cesarea, Vi conquista il Sacro Catino, commissionato nel 1846 da Carlo Alberto a Vincenzo Rasori, e Lutto in Piemonte di Gaetano Ferri, in cui si evidenzia il dolore per la notizia della morte di Carlo Alberto, opera con influssi caravaggeschi e fiamminghi acquistata dal figlio Vittorio Emanuele II. Con la riapertura della Cappella della Sindone che è avvenuta nello scorso settembre abbiamo deciso di rimettere in ordine nella cosiddetta Galleria della Sindone i quadri che erano stati commissionati nell'Ottocento da Carlo Alberto e messi in ordine proprio come commento al contenuto della più importante reliquia della cristianità. Quindi abbiamo proceduto al restauro. Uno dei due quadri si trovava già nella Galleria ed è stato restaurato con questo fondo del Consiglio regionale. L'altro quadro era stato spostato in passato, si trovava nella sala dei Corazzieri, è stato smontato dal telaio, arrotolato per poterlo far passare dalle porte, rimontato nel nuovo ambiente e poi restaurato appunto nello stesso con un piccolo cantiere. Con questo la zona della Sindone, proprio a fianco dell'apertura del portale di Guarini, ha il commento adeguato delle tele di carattere storico e religioso come era stato pensato da Carlo Alberto. Tutti i quadri sono su quella linea, tranne naturalmente l'ultimo, quello che è stato acquistato pochi anni dopo da Vittorio Emanuele II e che commenta appunto l'annuncio della morte di Carlo Alberto. Il restauro delle due opere di Rasori e Ferri, curato dalla cooperativa Coinè, è stato l'ultimo atto di un protocollo d'intesa tra il Consiglio regionale del Piemonte e l'Associazione Amici di Palazzo Reale per la valorizzazione dei beni culturali, che aveva portato nel 2013 al restauro del dipinto Gruppo di Cavalieri Antichi di Felice Manassero e nel riallestimento della Sala della Colazione, proseguito anche nel 2014 e 2015. Nel 2014 era anche stato restaurato il dipinto di Vittorio Blanchery, La battaglia di Farsaglia. Nel 2016 e 2017 invece l'attenzione è stata dedicata alla cultura carloalbertina, con i lavori alla Cappella di Carlo Alberto e alla Balaustra in legno nella Sala del Trono.